Sono diversi i problemi che spingono De Luca a dire che l'apertura delle scuole il 14 settembre è sbagliata. Si deve affrontare la questione del trasporto per gli studenti. De Luca ha annunciato che cercherà un accordo anche con società private di trasporto perché nelle condizioni attuali non è garantito a tutti. Annunciato l'acquisto poi di 15.000 termoscanner per la misurazione all'ingresso degli istituti della temperatura, mancano le aule poi. C'è un deficit che mette a rischio la presenza di 36.000 studenti e mancano dati certi anche su quanto personale scolastico sia realmente a disposizione. Ma la questione più grave è quella dei test ai lavoratori della scuola. La settimana prossima in regione Campania sarà fatto il punto sui numeri del personale scolastico che si è sottoposto al test per il covid-19 che ricordiamo è volontario e doveva invece essere obbligatorio per De Luca. Il numero delle persone che si è sottoposto alla verifica servirà per valutare l'apertura delle scuole il 14 settembre. Data ricorda De Luca a cui la sola regione Campania si era opposta per la concomitanza delle elezioni proponendo il giorno 24. Valuteremo in maniera definitiva sull'apertura dell'anno scolastico da qui a una settimana quando avremo le certezze rispetto a questi nodi che sto segnalando. Personale, screening al personale docente, misurazione di temperature, aule disponibili e così via. Segnalo che ci sono questioni di merito che vanno risolte se vogliamo dire alle famiglie italiane guardate apriamo l'anno scolastico ma vi garantiamo per quanto è umanamente possibile il livello più alto di sicurezza. Chiaramente di diverso avviso il candidato alla presidenza della regione Campania per il centrodestra Stefano Caldoro che indica nelle scelte fatte dal governo nazionale e regionale la ragione dell'attuale situazione che definisce caotica. La scuola è nel caos più totale, incertezza, le famiglie non sanno cosa fare, gli insegnanti sono lasciati al loro destino. Bene, la colpa di chi è, la responsabilità di chi è? Di un governo che non fa nulla, di un governo che fa errori enormi, l'amministrazzolina che si è messo mai conto tutto il mondo della scuola e delle famiglie e poi una regione totalmente incapace, ferma, contraddittoria, che una volta dice una cosa, una volta che dice un'altra, apriamo, chiudiamo, siamo nel pieno caos. Cosa si sarebbe potuta fare? Un piano, un piano straordinario, un piano di risorse, più organici, più spazio per le scuole, ci sono spazi che si sarebbero potuti prendere in tempo, organizzarli, parlare soprattutto con il mondo della scuola, con gli insegnanti, parlare con le famiglie e capire cosa fare insieme. Questo dialogo non c'è stato e quindi errori, caos, incertizze enormi. Si sta giocando con il futuro dei nostri figli. Chiede invece a tutti di fare un passo indietro Valeria Cialambino, la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania. La scuola non deve diventare argomento di scontro politico. Sul tema della scuola sposo pienamente le dichiarazioni del presidente Conte che ha invitato tutti a non fare campagna elettorale. De Luca sta facendo esattamente l'opposto, cavalcando un tema estremamente delicato come quello del rientro a scuola dei nostri figli per continuare a buttare fango sul governo e a fare campagna elettorale. La verità è che il governo ha lavorato benissimo e in tempi rapidi, stanziando tantissimi fondi per provare a riadeguare gli spazi e garantire la sicurezza dei nostri studenti. Sta lavorando in piena sinergia col Comitato Tecnico Scientifico recependone tutte le indicazioni, mentre De Luca, che è il titolare dell'edilizia scolastica, in cinque anni non ha adeguato le scuole, non ha fatto lavori che oggi non ci farebbero trovare in emergenza e con la necessità di intervenire in tempi rapidissimi. Sul tema della scuola io mi aspetto da un presidente di regione che lavori in piena sinergia e collaborazione con le istituzioni nazionali